Buonasera a tutti, siamo qui con Daniela De Prescenza, un giornalista per presentare il suo libro, Confessione di un killer. Ciao Daniela. Ciao. C'è qui anche il nostro elemento di disturbo. Sono Amalia De Simone, sì, sono un elemento di disturbo, ma oggi particolarmente felice di presentare questo libro di Daniela con cui ho condiviso un po' di anni di lavoro. Innanzitutto vorrei ringraziare la regia Giulio. Ok, allora Daniela, il libro si chiama Confessione di un killer, di che cosa ci racconti? Il libro raccoglie praticamente in diretta il racconto di Oresto Espagnolo. Chi è Oresto Espagnolo? Oresto Espagnolo è un essorsore nel clan dei Casalesi che all'improvviso, lui che veniva da una famiglia normale, il padre che era Pellegrini, la mamma casalinga, si trova, si tratta famiglia, si trasferisce a Castelvolturco e lui inizia una carriera di rapinature. Comincia con le rapine alle coppiette, alle prostitute, con le quali si mettono d'accordo per dividere l'incasso, poi passa alle rapine nelle ville e racconta come si organizza il sistema della prostituzione, perché loro rapinavano sostanzialmente alle emigrate e quindi alle madame quando le beccavano, oppure alle prostitute diciamo semplici, una carriera che gli porta un sacco di soldi, ma a un certo punto si incontra con il sistema, che in questo caso è Alessandro Cirillo, un esponente dei Casalesi, che gli chiede di diventare insorsore e lui accetta, accetta anche con un certo rammarico perché deve rinunciare ai cassi da rapinatore perché spiega, non avevo più il tempo, tenevo troppo da fare, dovevo andare a intimidire i commercianti, quindi non mi restava il tempo per fare soldi. Mi posso intromettere un attimo? No, perché lei dice, raccontiamo la storia di Oreste Spagnolo, racconta direttamente la storia di Oreste Spagnolo, perché lei Oreste Spagnolo lo ha conosciuto, lo ha visto in carcere, secondo me avrà fatto come fa quasi sempre, avrà messo il piede nella porta del penitenziario. No, in questo caso non è stato necessario, perché una volta tanto sono stata chiamata, cioè Oreste Spagnolo, che viene citato in un libro precedente che ho scritto che ho scecato, lei... La storia di Giuseppe Seto, l'altile... Lui si riconosce in qualche modo nella descrizione che io ne faccio e quando si pente chiede ai magistrati della DDA di poter scrivere un libro e Bontasua mi sceglie come... Io non me ne manterrei, come ti devo dire? Non c'è nè DDA, è un fatto, mi chiamano e io naturalmente subito mi precipito in carcere, mi fanno tutti i permessi e ci vado perché naturalmente sono incuriosita, non ero decisa a scrivere un libro, insomma io ci sono andata perché ero fondamentalmente volevo sapere cosa teneva da dirmi, chi era, il testimone comunque di vicende che sono state raccontate tante volte di cui avevo visto i filmati, quindi mi intrigava questa cosa. Prima ci parlavi insomma della strage di Castropolturno, la famosa strage di Castropolturno e di uno di... insomma di un sopravvissuto, di una persona che ce l'aveva fatta. Questa è una storia terribile ecco perché mi riportava un po' alla vicenda di Miriam Makebba. Nella strage sopravvive un immigrato, Joseph, questo contrariamente a quello che probabilmente avrebbe fatto uno di noi che conosce il clan e che forse ne ha più paura, racconta subito e racconta agli inquirenti quello che ha visto e insieme a Spagnolo diventa l'unico sopravvissuto, diventa l'unico testimone di questa strage. Cioè la strage ci viene raccontata poi negli atti giudiziari da due punti di vista, quello del killer e quello della vittima e questo permette in qualche modo di inchiodare anche Sedola, di inchiodare Letizia, di inchiodare tutti e cinque i killer che hanno partecipato a questo massacro. ma il sopravvissuto passano mesi, passano anni. Tra l'altro io pensai di invitarlo alla presentazione del mio libro. Contatto l'avvocato, l'avvocato giustamente mi spiega, dice no, questo è sotto protezione, certo non può partecipare a un evento pubblico. Dico vabbè, stavamo discutendo della possibilità di fare un intervento scritto, quando un giorno mi telefona l'avvocato e mi dice guardi, Joseph è morto, era morto di aneurisma, quindi di una malattia, doveva essere sopravvissuto a 120 proiettili e la vita è anche questo, cose assurde perché io credo che mai, mai, né lui né nessuno di noi poteva immaginare una cosa del genere, né lo stesso spagnolo, che anzi quando ha preso la notizia mi hanno detto poi, il solegale è molto preoccupato perché resta l'unico testimone contro Sedola, mentre prima erano in due. Allora, io voglio solamente dire, magari la mia opinione conta meno di zero, però io questo libro l'ho letto, è un bel libro e veramente vale la pena leggerlo, vale la pena leggerlo. Grazie Amalia, spero che chi lo legge possa essere interessato da questa storia, che è quello che è successo a me. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a tutti.